Vallequilde è per diversi motivi tra i più importanti naturalmente c'è il mistero che è la cosa che a me trae di più della musica e cioè che ancora Lequadier dei grandi compositori americani è l'unico forse che non ha una storicizzazione, una spiegazione di mille eroi della tradizione, non ci sono così tante interpretazioni da parte dei grandi del jazz del Novecento e quindi la sua musica mantiene intatto una sua purezza, una sua innocenza ancora. Queste art songs sono proprio una raccolta virtuosa secondo me perché proprio questo tipo di prassi è assai virtuosa e cioè quella di mettere in musica dei versi preesistenti di poeti oppure quello di creare dei sudalizi con dei poeti viventi attraverso cui creare queste canzoni dando molta importanza ai contenuti letterari quindi della parte testuale. Quando la musica è buona spogliandola dallo stile rimane forse ancora più forte il contenuto nel tempo e proprio questo contenuto, questo nucleo profondo del materiale compositivo sia letterario che musicale è ciò a cui ci siamo ci siamo indirizzati e concentrati.